ciao e benvenuti sul mio canale youtube mi avete chiesto la ricetta di questi sfilatini che ho pubblicato sul gruppo questa è la farina che ho usato farina di tipo 1 macinata a pietra e il cruschello di grano bio ho fatto i soliti passaggi messo in autolisi le farine poi ho aggiunto ho aspettato mezz'ora poi ho aggiunto il lievito madre il sale e ho portato ad incordatura e questo è il risultato eccolo qua il gruppo dove ho pubblicato i filoncini naturalmente e nuvola un amore di pasta madre il gruppo che seguo e dove ogni tanto facciamo qualche video insieme a tutti gli amici bene ho oliato questo contenitore sto facendo ora delle pieghe direttamente nella ciotola dopodiché vado a coprire con un coperchio oppure con la pellicola e lascio l'impasto a lievitare fino al raddoppio una volta una volta pronto sono passate all'incirca 4 ore lo giro sul piano di lavoro però i tempi non copiate alla lettera il tempo dovete controllare l'impasto ad occhio perché come sapete dipende molto dalla temperatura che avete in casa naturalmente è stato a temperatura ambiente all'impasto ora procedo e faccio due giri di pieghe questo è il primo giro le classiche pieghe a tre intanto che faccio le pieghe volevo mandare un saluto alle amiche che mi commentano mi fanno sempre tanti complimenti ma io non mi sento così così grande io sono una come voi sono tante le amiche adesso ne nomino solo qualcuno Antonella Cinzia Teresa Rita Maria Francesca ma ce ne sono tanti altri anche maschietti Ettore e Beppe li ringrazio ringrazio veramente tutti per i commenti che mi fanno sotto i video bene tra una piega e l'altra copro con la ciotola e faccio rilassare l'impasto almeno mezz'ora qui ho accelerato un pochino il video la velocità e questo è il secondo giro di pieghe ho piegato in maniera un po' diversa ma è lo stesso e lo lascio ancora lo lascio coperto con la ciotola 30-40 minuti passato il tempo riprendo l'impasto e vado a fare le pezzature io farò due sfilatini quindi divido a metà così ad occhio senza pesare proprio se volete pesate con questo impasto ci vengono anche se volete tre baguette l'impasto la dose è giusta per fare anche tre baguette allungo un pochino e arrotolo arrotolo così in questo modo per formare questi sfilatini giusto un pochino ok li metterò a lievitare nel contenitore apposito delle baguette così mi si mantengono belli belli lunghi cerco di affinare le estremità metto un po' di semola per lavorare meglio ho messo la carta forno sul contenitore con un po' di semola però se volete se avete altri contenitori usate quelli copro copro con il telo e lascio a temperatura ambiente lo metto dentro il forno ma senza accendere la lucetta così ho fatto proprio la lievitazione naturale a temperatura ambiente e sono arrivata la sera eccoli qua vi ho messo la descrizione per la cottura ma regolatevi anche dal vostro forno e quindi anche ad occhio e ho fatto dei tagli trasversali scusate mi sono dimenticato di fare la foto e all'incirca ci è voluto 40 minuti poi ho lasciato un pochino a spiffero eccoli qua l'aspetto è bello adesso faccio raffreddare faccio freddare un pochino il pane prima di tagliare e poi vediamo come è venuto l'interno calcolate che soltanto farina tipo 1 quindi senza zero e con la crusca con un po di cruschello cruschello bio ed eccolo qua molto bello queste fettine piccoline sono molto adatte per le bruschette dell'antipassino il profumo è buonissimo bene amici io vi ringrazio della visione vi invito come al solito lasciare un like sotto il video e di condividere di condividere i miei video ciao a tutti un saluto e ci vediamo presto ciao ciao